Lo sciopero fiscale è semplicemente una proposta indecente, deltanto più vergognosa quanto viene da persone che sono state al governo fino all'altro giorno. In Italia si pagano troppe tasse, su questo siamo d'accordo tutti, ma la ragione è che c'è gente che non le paga affatto, che le evade totalmente, per cui ci vuole rigore, serietà e con queste proposte demagogiche l'Italia può tranquillamente fare la fine della Grecia.